Accortami di nuovo perché il nostro figlio deve essere battezzato. Oh, ma perché vuoi saperlo? Tu non ci vieni. Va bene, tu portalo in chiesa, io lo porterò agli spettacoli di magia e tornando a casa gli spiegherò che sono tutte bugie, così non avrà degli incubi trementi. A proposito, ho invitato tua sorella. Jordan, dimmi che non è vero. Oh, mi dispiace, tesoro, non credevo che ti avrebbe sconvolto così. La chiamo e le dico di non venire, se vuoi. Non sarebbe assurdo se io fossi davvero così? Sì. Assurdo. Quando è il gioioso evento? Non sei invitato. Oh, capisco, solo parenti stretti, è così che si usa. Io ci vado. Pevello, dammi trego, è certo che verrai. Anzi, a dire il vero, vorrei che facessi da padrino al piccolo. Sono molto onorato. Sono molto bugiardo. Non capisco che cosa ci sia di divertente. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.